ok vediamo adesso una prima esercitazione di controllo dinamico quello che facciamo adesso è la progettazione di un controllore pd più compensazione di gravità nello spazio dei giunti per cui diciamo quello che abbiamo visto nella lezione teorica della volta scorsa e caratterizzato da queste specifiche quindi diamo un profilo di velocità trapezzidale desiderata facciamo muovere diciamo con queste specifiche i giunti più o meno 90 gradi un paio di secondi diamo del kp e kd diagonali tempo di finale della simulazione 3 secondi quindi il tempo di finale della simulazione più lungo rispetto alla traiettoria desiderata per consentirci di osservare qual è il regime quindi anche il transitorio finale passo di campionamento di un millisecondo e diciamo partendo dal codice dalla libreria di funzioni che riguardano IACO che è disponibile su due siti vediamo dove lo potete trovare allora su classroom voi avete nella parte diciamo dei classwork c'è il materiale matlab e all'interno diciamo della cartella del 2020 2021 voi trovate le soluzioni alle esercitazioni per quanto riguarda quella di questa lezione c'è solamente il template per adesso quindi temp sta per template non per temporaneo in maniera tale che siate voi a completare la parte però poi c'è tutto quello che vi serve riguardante il modello matematico dello IACO in alternativa trovate il materiale sul sito web del laboratorio e questo l'ho appena chiuso un attimo che adesso ve lo ritrovo sotto ricerca software c'è diciamo il modello matematico e i file per poi fare il collegamento con coppelia sim che non serve per questa esercitazione ma in generale può servire ok allora quindi diamo per presupposto che noi sappiamo quello che ci serve del nostro robot e per esempio conosciamo tutta la tabella di Enet Artenberg sul file pdf che è disponibile sul sito nei due file dovrebbe essere disponibile sia in classroom che nel sito di laboratorio questa è la home configuration oggi non facciamo una visualizzazione grafica facciamo solamente vediamo solamente i segnali della simulazione e qui ci sono tutti i dati che ci servono per capire va bene allora volevo vedere questo è la configurazione home le velocità ok qui abbiamo i limiti di giunto del robot fisico in radianti e le velocità in effetti qui manca i limiti di cotta quindi eventualmente poi lo cerco e lo aggiungo e lo aggiungo queste sono le velocità massime radianti al secondo che sono più o meno quelle che avete anche visto voi e che vedremo adesso nell'esercitazione un po' di più un po' di meno adesso non è questo la cosa importante ok allora vediamo un attimo rivediamo un attimo qual è la legge che dobbiamo implementare la legge che dobbiamo che vogliamo implementare è questa più di più compensazione di gravità quindi questo è uno sfondo azzurro la differenza rispetto a questa che abbiamo visto nella teoria è che noi vogliamo dare un trajectory tracking cioè un inseguimento di traiettore questo significa che il copunto desiderato è diverso da zero e questo significa che io qui non avrò il termine meno kd copunto ma più kd q tilde punto va bene è la semplicemente questa differenza guardate che questo l'abbiamo già visto anche quando abbiamo fatto l'inversione cinematica e la differenza tra regulation e tracking e l'effetto nella retroazione l'abbiamo già incontrato ok quindi noi dobbiamo implementare questa cosa qui e vediamo un po' diciamo in matlab come fare ovviamente io vi faccio vedere direttamente la la soluzione tra virgolette allora questo è il nostro bravo file puliamo lo spazio di lavoro abbiamo diciamo ho progettato kp e kd in maniera abbastanza euristica e anche abbastanza veloce dopo li commenteremo e proveremo un po' anche a giocarci a cambiarle e poi abbiamo le variabili simulazione per cui numero dei giunti tempo finale della simulazione passo di campionamento per cui ho messo 4 avevo scritto 3 la stessa cosa non cambia molto il vettore tempo il numero di campioni della simulazione che quindi sarà la lunghezza del vettore tempo in maniera tale che abbiamo tutto quanto sempre coerente e poi come vi ho detto più volte il matlab non richiede di allocare lo spazio per le variabili però è una questione di pulizia di codice io ritengo che sia opportuno comunque farlo e quindi io definisco la q desiderato la q poi assegno il valore iniziale alla q la velocità quindi dq dq desiderato la velocità desiderata ddq cioè l'accelerazione vera quella desiderata non ci serve tau poi l'errore di posizione q tilde l'errore velocità dq tilde assegniamo un q finale che semplicemente quello iniziale più 90 gradi senza farci troppe domande e una velocità di regime che è l'ordine grandezza se avete visto è più o meno il massimo dei limiti di questo di questo robot ora a questo punto il mio ciclo di controllo in cosa consiste beh per n grande volte prima di tutto genero la posizione desiderata e questo lo faccio con la funzione trapezoidal che abbiamo già scritto in una delle esercizazioni precedenti per cui posizione iniziale posizione finale velocità di crociera è un vettore di sette elementi questi sono tutti i vettori di sette elementi il tempo finale facciamo uguale per tutti e il tempo corrente e lui mi dà in questa diciamo con queste condizioni lui mi dà la posizione desiderata in questo istante e la velocità desiderata in questo istante ok calcolo gli errori e nello spazio dei giunti banalmente la grandezza desiderata meno quella effettiva perché non ho tutte quante diciamo le questioni legate all'orientamento che ho già risolto nel controllo cinematico e poi implemento il controllore beh il controllore in questo caso quindi è molto molto semplice perché è una riga di comando q k p q tilde più k d d q tilde più guardate ora io qui ho scritto 1 per la compensazione di gravità perché ho scritto 1 per perché poi mi divertirò a sbagliare la compensazione e vediamo che succede dopodiché queste righe qui sono diciamo la parte di integrazione quindi non riguarda voi che fate il controllo della vostra esercitazione è quello che fa normalmente il simuling e cioè la dinamica diretta in cui con il mio controllo con l'attuale posizione e l'attuale velocità io calcolo qual è l'accelerazione poi integro in maniera tale che ho l'attuale velocità e cioè la velocità e la posizione per il passo successivo ok quando faccio le simulazioni questa è una simulazione abbastanza semplice ma quando sono simulazioni complicate io cerco di monitorare di vedere un po quello che succede va bene come vi ho detto prima alcune versioni del la prima versione del modello matematico non era ottimizzata e con alcune versioni diciamo con alcuni dei vostri dei vostri portatili un po un po lenti qualcuno aveva anche aspettare uno due minuti per questa semplice simulazione quindi aveva aggiunto questa riga che mi dà la percentuale di completamente adesso è anche abbastanza inutile poi finisce il ciclo di controllo e faccio i miei bravi plot quindi lanciamo questo codice e vediamo che cosa succede ok allora ha fatto la simulazione e ora vediamo che cosa ho prima di tutto vi faccio notare come voglio vedere i grafici asse delle ascisse asse delle ordinate devono avere un'etichetta perché io devo sempre sapere cosa c'è la simulazione e quelle delle ordinate e con che unità di misura va bene poi quando ho tanti linee io aggiungo legend eccola qua la mia brava leggenda che così mi aiuta a capire cosa c'è in ogni linea il codice colore se usate un po il matlab poi lo imparate anche a memoria però ovviamente non è importante poi a me non piace questo codice colore prima o poi tornerò a quello precedente perché soprattutto il giallo lo trovo sbagliato quando andate a proiettare su un proiettore non si vede bene allora questi sono i giunti ognuno ha fatto 90 gradi non vedo niente di particolare queste sono velocità qua comincio a vedere che magari c'è un giunto il 3 in cui vabbè il guadagno il controllore poteva essere può essere tarato meglio e poi adesso io comincio anche a vedere dopo t uguale 2,5 secondi capisco perché a me piace avere una simulazione che sia più lunga ragazzi che cosa vedo beh io vedo che alcuni giunti hanno un transitorio che dura per troppo tempo stanno oscillando i guadagni termini sono tarati male senza senza mezzi termini sono tarati male questi andrebbero smorzati e forse anche aumentato un po di più anche il kp va bene per cui questo ha una costante di tempo che diciamo lo posso capire quando posso capirlo quando finisce la traiettoria desiderata di fatto quella che vedo è l'evoluzione libera nell'errore per cui io posso leggere la costante di tempo per cui con le considerazioni che abbiamo già fatto tante volte in teoria di sistemi oppure in controlli va bene è lenta non mi piace guardiamo le altre grandezze questo qui è l'errore di posizione questo è l'errore di velocità l'errore di posizione è un errore che se io leggo l'asse y io leggo 10 a meno 2 radianti 10 a meno 2 radianti significa che io sto parlando di devo moltiplicare per 50 10 quindi 10 a meno 1 0 5 diciamo che siamo sotto il grado ok va bene non va bene dipende dall'applicazione un robot industriale questo errore sarebbe troppo grande per robot che abbiamo noi tipo cobot e per tutte quante le flessibilità del robot questa va anche bene non facciamo gli schizzinosi la velocità guardate la velocità si vede poco se non che a 2,5 apprezzo ancora di più questo transitorio troppo oscillante in questi giunti poi qui abbiamo le coppie e diciamo alcune di loro non ci piacciono granché io qui devo vedere l'accelerazione coerente col profilo di velocità trapezzodale e non lo vedo tanto e qui ho chiedo scusa chi sono l'accelerazione qui sono le coppie va bene sulle coppie come vi dicevo prima quello che possiamo vedere sono continue possiamo vedere che diciamo sono compatibili con la massima coppia che del nostro motore che non ho scritto nel nel documento lo aggiungerò dopo diciamo di sì quindi va tutto bene ok allora adesso però facciamo qualche piccola modifica allora chi è che non mi piaceva lo smorzamento il blu che sarebbe il numero 1 il viola il numero 4 vabbè diciamo i primi 4 e allora torniamo al nostro bravo codice kd e proviamo diciamo ad aumentare un po' il un po' il cosa allora voi che cosa fate quando quando dovete modificare vi suggerisco di conservare i valori che vi sono piaciuti per cui voi li conservate poi adesso moltiplico più o meno per 2 e poi soprattutto vi suggerisco di non fare come sto facendo io cioè cambiatene uno alla volta non li cambiate tutti insieme poi un'altra cosa che potete fare è tarare un giunto alla volta guardate c'è l'accoppiamento tra i giunti per cui in realtà voi scoprirete che uno dei difetti di questo controllo è che è difficile la taratura perché io adesso sto tarando ma muovo tutto insieme e questa legge di controllo compensa solo la gravità non l'accoppiamento per cui in realtà io soffro l'accoppiamento se faccio la taratura muovendo un giunto alla volta magari va bene quando poi vado a muovere i giunti ecco qua ho avuto un problema di eh numerico per cui eh numerico per cui mi fermo e ho diciamo dei valori troppo alti per quanto quindi quello che ho detto prima di cambiare uno alla volta che io non ho fatto adesso lo facciamo allora cosa faccio adesso rimetto il valore precedente e dico faccio la taratura cambiandone uno alla volta così vediamo di che chi è la colpa diciamo di questa prestazione se è colpa del controllore che ha delle prestazioni intrinsecamente limitate oppure se è colpa dei guadagni ho mostro solamente ah di un vabbè di un radiante ho mostro solamente il giunto uno di un radiante questa è la posizione questa è la velocità questo è l'errore l'errore è 10 a meno 4 forse forse non si legge bene l'errore di posizione 10 a meno 4 quindi è molto bassa questa è la velocità allora guardate il giunto uno con con quei guadagni si comporta abbastanza bene ok quindi e si muove di un radiante fatemi di controllare questo è un radiante però fatemi fatemi fare abbiamo detto 90 gradi fate mantenere 90 gradi quindi quello che vi posso quello che posso vedere qui con questo con questa simulazione è che questo giunto si sta muovendo in maniera molto pulita per un radiante guardate che tutto il resto è tutto fermo ok quindi questo l'inerzia che vede il giunto uno in questo momento è sempre la stessa perché lui si muove e il robot e gli altri giunti sono fermi quindi la taratura che ho fatto adesso va bene per questa configurazione ma magari non va bene per un'altra questo è un limite intrinseco di questo allora che cosa facciamo muoviamo due giunti vediamo ora che cosa cambia allora muovendo due giunti le cose sono ancora sono ancora abbastanza abbastanza buone nel senso che il problema che ho visto prima adesso io continuo a non vederlo ok? per cui questo va ancora abbastanza bene vi faccio notare una cosa il profilo di velocità trapezoidale ha degli istanti diversi perché io ho dato delle velocità di crociera diverse per cui gli istanti di switching sono diversi e quindi quello che vedete qui queste piccole discontinuità chiedo scusa in accelerazione dove sono ecco qua nell'accelerazione sono dovute al fatto che l'accoppiamento va e viene in base a quale periodo in quale periodo siete quindi voi vedete come soffre diciamo dell'accoppiamento questo legge di controllo ok? ancora anche questo va ancora bene per cui alla fine quando io metto tutto insieme a questo punto penso che sia questo l'altro giunto pesante che comincia a far cadere un po' le prestazioni ma ancora anche questo va bene allora quando sono tutti insieme ho diciamo il calo comincio sì vabbè forse lo comincio a vedere questo no questa è l'accelerazione questo è l'errore di velocità allora lo voglio smorzare un po' di più a questo punto cosa facciamo? rilasciamo questo cerchiamo di aumentare un po' quindi lo smorzamento del primo va bene? prima ero stato troppo audace avevo cambiato tutto quanto insieme del doppio e a causa della discretizzazione ho avuto problemi poi di tipo di stabilità alla fine di tipo numerico ok che cosa sta succedendo qui? qualcosa di molto strano dove sta? qualcosa di molto strano nella allora questo è l'istante di switch del giunto 2 che sta provocando diciamo un accoppiamento su 1 e 3 ok? quindi probabilmente diciamo devo diminuire questi questi guadagni e allora quello che posso fare se voglio poiché il K a questo punto voglio mantenere a questo punto mantengo il K di prima allora quello che posso fare per aumentare lo smorzamento diciamo diminuire il K a qui per esempio io qua adesso metto 150 e vediamo se questo e potrei andare avanti per un po' di tempo con la taratura per cui ora qualsiasi cosa esce ci fermiamo e vediamo un attimo la gravità che cosa che conseguenza ha la compensazione della gravità allora io adesso se vedete ho rimediato a quel problema perché in effetti non posso più aumentare il K D perché è un effetto di discretizzazione evidentemente quindi per avere un po' più di smorzamento che faccio lascio il K D e abbasso il K P perché comunque diciamo il K P so che aumenta le oscillazioni quindi ne riduco il suo effetto ok allora qui si potrebbe andare avanti per tanto tempo però quello che vi voglio far notare invece adesso andiamo a cambiare una piccola cosa e vediamo che succede allora guardate qui l'errore 0 ok siamo tutti d'accordo che l'errore 0 al regime vabbè il verde ci mette tanto andare a 0 non fa niente ce lo siamo detti possiamo potremmo fare delle cose migliori ora vediamo invece cosa succede se io sbaglio la compensazione di gravità ora che vuol dire sbagliare la compensazione di gravità è chiaro che io non è che nella realtà sbaglio di un fattore proporzionale proprio questa compensazione nella realtà io sbaglio i numeretti delle masse dei momenti primi di inerzia perché sono questi quelli che entrano nella gravità momenti primi di inerzia e masse va bene allora dovrei entrare nel codice diciamo della della gravità e mettere un errore nella conoscenza di quei parametri facciamo una cosa un po' più sbrigativa e mettiamo un errore solamente nella compensazione proprio della coppia va bene 0,9 questo è concettualmente fisicamente sbagliato però lo facciamo perché è più veloce e perché comunque ci fa vedere l'effetto dell'errore della compensazione di gravità ce lo fa toccare subito con mano un attimo devo trascinarmi ecco qua allora io qui non vedo niente perché si sono mossi i tre giunti sì le velocità vanno a 0 sì dov'è che vedo che cosa sta succedendo lo vedo qua errore di posizione non è andato a 0 perché non è andato a 0 perché questa è una legge di controllo senza azione integrale che compensa male la gravità per cui a regime io dovrei compensare la gravità la compenso sbagliata e quindi tu si ferma a un valore che è diverso rispetto a quello desiderato quanto diverso cambia in base all'errore che faccio ma cambia anche in base alla configurazione desiderata per cui in realtà è poco prevedibile va bene quindi questo di mettere 0,9 ve lo ripeto un'altra volta è concettualmente una mezza scemenza ma ci fa toccare con mano quello che succede quando io vado a diciamo a implementare un controllo di tipo PD più compensazione di gravità quindi è un controllo molto semplice è un controllo il primo controllo con cui noi cominciamo a giocare con la dinamica del robot perché fino adesso abbiamo avete implementato controlli cinematici in cui serviva solo lo jacobiano e poi andremo avanti e implementeremo altri tipi di controlli anche poi nello spazio cartesiano e poi anche interazione con l'ambiente questo è solamente come dire per cominciare per cominciare allora quello che vi chiedo avete fatto il codice e me l'avete fatto vedere giocate con i guadagni come vi ho detto in maniera tale da toccare con mano il concetto di accoppiamento cioè se voi muovete un solo giunto e vi mettete a tarare i guadagni arrivate a un punto in cui siete estremamente soddisfatti di quello che succede vedete poi cosa succede quando muovete diciamo i più giunti insieme il concetto di accoppiamento dinamico cosa significa sono ognuno un disturbo per l'altro e questo controllore è troppo elementare e non li tiene in considerazione ok ok grazie a tutti